Beh, allora se mi permettete, io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Trombetta? Sì. Trombetta, trombetta, questo nome lo mi è nuovo. Beh, l'avrete letto sul giornale, vero? Io ho conosciuto anche suo padre, sa? Sì? Beh, non mi stupisce, mio padre è talmente conosciuto. E chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Bravo! No, no, che trombone. No, bravo, sia comodo. No, state comodo, ma siete in equivoco, signore. Avete detto trombone. Scusate, se io faccio trombetta, è chiaro che anche mio padre faccia trombetta. Lo so, ma alla volta, sa? No, no, precarità, no. No, no, trombetta è il padre, trombetta è il figlio. A prescindere. Viceversa, mia sorella fa trombone. Ecco, fa trombone. No, 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 mi avete fatto confondere. Sua sorella fa trombone. No, vi garantisco non fa trombone. Se lasci servire da me, è insieme a Dio a sua sorella. Se ne volete sapere voi, no? Io lo so, sono un uomo di mondo. Vabbè, ma non la mistica. Ho fatto tre anni di militare a Cuneo. Vabbè, ma basti di questo. Mia sorella non è mai stata a Cuneo. Trombone, fa trombone. Ma no, fa trombone. Glielo dico io, non insista. Ma che dite voi? Non volete mica conoscere mia sorella meglio di me? Vabbè, vabbè. Vi garantisco che fa trombone. Sì, signore, fa trombone. Sì, signore, fa trombone. Vabbè, vabbè. Per meglio dire, faceva trombone. Oh, ci siamo. Ci sei cascato. Ma come dico io? Ma no. Non faceva trombone. Ma no, state fermo, non mi posso sentire toccare. Sì, per cortesia. Lasciate che mi spieghi. Faceva trombone la signorina. Vabbè, adesso che ha sposato un bocca, fa trombetta in bocca. Oh, bello, è per forza.